Di nuovo liberi. Le FARC, le Forze Armate Rivoluzionari della Colombia hanno consegnato alla Croce Rossa due agenti della polizia locale catturati 21 giorni fa. Il rilascio è avvenuto a tre giorni di distanza da quello di cinque minatori rapiti il mese scorso nel nord del paese dall'esercito di liberazione nazionale.